Commissione Impianti Sportivi questa mattina a Palazzo Zanca si è discusso della piscina Cappuccini, oggetto di una sfiorata tragedia nei giorni scorsi e poi successivamente chiusa dall'amministrazione comunale e poi ancora uno schema di convenzione per la gestione degli impianti in città. La posizione dell'amministrazione De Luca rappresentata in commissione dall'assessore con delega allo sport Pippo Scattareggia è chiara e precisa, la manutenzione delle strutture deve essere affidata ai privati, una scelta che non va giù alla commissione che chiede di trovare una soluzione che possa gravare il meno possibile sulle realtà sportive cittadine più piccole. Abbiamo parlato della piscina Cappuccini per quello che è successo in questi giorni, per il crollo parziale del tetto, abbiamo avuto dall'ufficio tecnico del comune un'idea di quanto ci vuole per sistemarli, circa 200 mila euro solo per sistemare questo crollo parziale, oltre 65 mila euro che sono già spesi o che si stanno spendendo per la manutenzione straordinaria della piscina stessa. Secondo quanto dichiarato dai consiglieri in commissione la linea dell'amministrazione comunale è percorribile fino a quando si tratta di impianti senza rilevanza economica, gli stati francoscudi e celesti di esempio invece possono essere affidati ai privati in quanto strutture con rilevanza economica. L'amministrazione non vuole spendere soldi per la manutenzione degli impianti sportivi, la linea politica è quella di affidarli ai privati caricando sui privati la gestione tutta, l'intera gestione degli impianti sportivi, la messa a norma e la gestione, altrimenti chiudere gli impianti. La maggior parte dei gruppi in aula continuano a ritenere che probabilmente bisognerebbe trovare una linea mediana. Lo schema di convenzione per la gestione degli stati è stato approvato ma i lavori continueranno il prossimo mercoledì quando verranno esaminati gli emendamenti riguardo lo stadio Giovanni Celeste.